Quando si danno le concessioni si devono mettere a bando, vale a dire che qualunque cittadino può concorrere per gestire delle concessioni, in realtà qui a Ostia ma in altre parti d'Italia le concessioni demagnali sono una sorta di monarchia venetata da un nepotismo, da padre in figlio, una sorta di lobby che ha praticamente consentito e determinato la privatizzazione. Io parlerò molto breve per dire tre cose. Primo, che per quanto ci riguarda, dopo domani mattina presenteremo alla Procura della Repubblica di Roma un esposto contestando il reato di estorsione nei confronti di quei gestori degli stabilimenti maniari che impongono il pagamento del biglietto d'ingresso, è estorsione, questa è una questione che riguarda l'estorsione. Noi chiediamo alla Procura di Roma di garantire i diritti dei cittadini, quindi verrà presentato questo reato di estorsione. Seconda questione, lo diranno anche gli amici di Peppe Grillo, i radicali italiani, ma tutti gli altri che hanno i vari comitati che hanno partecipato e promosso. Promuoveremo insieme una stagione referendaria nelle maggiori città balneari per chiedere non solo il libero accesso al mare che di fatto è una norma dello Stato approvata nella finanziaria del 2006, la scrissi io personalmente quella norma e la ricordo bene a memoria, ma non c'è né Polizia Municipale né Capitaneria di Porto, nessuno che abbia. Se io fossi il comandante di una Polizia Municipale che cosa farei? Mi metterai in Borghese e andrai a verificare, invece tutto ciò non accade, è una cosa inaccettabile e non c'è nessuna situazione in Europa, nel mondo di una vergogna internazionale come c'è qui a Ostia dove il mare non si vede e per entrare devi anche pagare, quindi un'esposta all'Unione Europea finché apra una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per questa vicenda. Terzo, la questione legata all'avvio dell'istituto di partecipazione, vuol dire di una campagna referendaria nelle maggiori città balneari. Oggi noi ripresentiamo la versione del manuale del bagnante in cui ci sono tutti i diritti dei cittadini che vanno al mare e che subiscono quotidianamente le vessazioni di chi gli impone il pagamento del biglietto d'ingresso, c'è scritto tutto, ma c'è scritto anche una cosa che gli italiani devono sapere, non è che pagano 0,20 centesimi di euro metro quadro annuo, non so se è chiaro, tra i 0,20 e i 0,40 centesimi di euro metro quadro annuo. Tutti sono capaci a fare gli imprenditori con i beni dello Stato italiano e con i beni dei cittadini italiani. Questo è assolutamente inammissibile. L'unica cosa a cui sono stato d'accordo con Tremonti è proprio quando propose l'aumento del 300%, che poi fu bloccato trasversalmente, sia dal centro-sinistra che dal centro-destra. Detto questo, i canoni vanno assolutamente adeguati, altro che sciopero. Quindi da oggi parte con altre realtà questa campagna che sarà infinita fin quando non verranno garantiti i diritti dei cittadini.